Ciao a tutti, sono Davide ed oggi vi parlo di Basic Power Supply e Cosmos Power Supply, due alimentatori firmati Dynamic Tattoo Machines. Basic è un alimentatore dalle dimensioni super ridotte, molto utile per chi cerca un alimentatore facile da spostare e trasportare. Il voltaggio è facilmente regolabile tramite la rotazione dell'indicatore rosso, ha una potenza di 1,5A e può arrivare fino a 18V. Cosmos invece è un alimentatore molto funzionale, con B12 memorie impostabili, la funzionalità timer, le funzioni pedale singolo o continuo e la possibilità di utilizzo senza pedale. Cosmos può erogare dai 3 ai 18V ed è disponibile in due versioni, 2A e 5A. Cosmos ha la scocca in ABS antiurto ed antiscivolo ed ha in dotazione una staffa che gli permette di stare in posizione verticale tramite l'ausilio di ventose o di calamite. Basic e Cosmos sono due alimentatori importati e testati da Dormouse, godono della garanzia di un anno Dormouse e sono provvisti dalla certificazione CE italiana. Basic è sul mercato ad un prezzo di listino di 48€ più IVA. Cosmos invece ha un prezzo di 138€ più IVA per la versione da 2A e 185€ più IVA per la versione da 5A. Per maggiori informazioni o per acquistarli potete visitare il sito electricdormouse.it oppure potete contattarci via telefono, whatsapp o tramite i social. Vi ricordino oltre di iscrivervi al canale per non perdervi le novità a Dormouse. Ciao a tutti!